Come puoi raccontare la tua gara? È stata una gara difficile alla fine, abbiamo avuto un po' di difficoltà a lottare con Bird e la Costa, quindi alla fine sono molto contento di arrivare terzo, molto contento. Sono 15 punti e speriamo di far bene e di continuare così a Marrakesh, sarà bello. Ti ha complicato la vita superare Andrea Lotter, l'hai detto in conferenza stampa? Sì, perché ho dovuto consumare tantissima energia all'inizio e dopo tutto quello che hai consumato lì non ce l'hai più, quindi alla fine per me quello è stato difficile. Grazie.